Stasera si disputa l'altra semifinale tra Juventus e Fiorentina, ore 21 su canale 5. La Juventus deve affrontare questa Fiorentina nel vincerla la partita avendo l'ultima chance per andare in finale e vincere una competizione importante. Avendo fallito altre competizioni importanti con un mercato disastroso, un allonatore incompetente, dirigenti allo sbando e un presidente arrogante e presuntuoso. La Fiorentina sappiamo come gioca, esprime un bel calcio, ha un ottimo allenatore, degli ottimi giocatori e ci darà filo da torcere per andare in finale. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, commento e un like. Ciao!